Una centrale per lo stoccaggio e la catalogazione del re furtiva. E' quella che i carabinieri hanno scoperto in un capannone di via Basilica a Calvisano. Da tempo nella zona si segnalava un escalation dei furti in aziende e di militari. Erano sulle tracce di diverse bande che negli orari notturni prendevano di mira capannoni e cantieri. Grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini è stato possibile scoprire che nel capannone c'era uno strano via vai di furgoni, soprattutto prima dell'alba. Venerdì mattina è dunque scattato il blitz. Quando i carabinieri del maresciallo Alfonso Gentile hanno fatto irruzione, hanno trovato due uomini, un 35enne di Montichiari ed uno rumeno di 34, intenti a catalogare la merce che aveva probabilmente appena ricevuto e che, secondo gli inquirenti, sarebbe stata ricettata all'estero per metà del suo valore. Accatastati dappertutto attrezzi da lavoro, pezzi di vetture, ma anche cavi di rame e materiali di cantiere, oltre ad abbigliamento e vetture rubate, per un valore complessivo di diverse centinaia di migliaia di euro. Dai numeri seriali di alcuni articoli è stato possibile identificarli per attrezzature rubate nei giorni scorsi, in cinque diversi episodi, a Carpenedolo, Calvisano, Montichiari e Ghedi.